Cinque culle neonatali per il co-sleeping per il rooming in dell'ospedale San Donato di Arezzo che permetteranno così al neonato di stare accanto alla madre in piena sicurezza. La nuova donazione alla neonatologia è arrivata dopo l'appello della dottoressa Letizia Maggi. Hanno la caratteristica di essere utilizzate next to me, cioè a fianco proprio del letto della mamma, in collegamento come un appendice del letto della mamma in cui il bambino può essere posto accanto alla mamma che lo tocca, che lo tiene vicino, ma in sicurezza, nel senso non nello stesso letto con la mamma. Quindi è un co-sleeping, non una condivisione del letto materno. E questo favorisce l'allattamento, favorisce il contatto, ma soprattutto anche la sicurezza. Le culle per un valore complessivo di 5.000 euro sono state donate dal Calcit, dal Comitato Aretino Neonatologia, dal gruppo Trekking Caminanzognando e dall'Associazione Aldonardin di Arezzo. Quest'anno abbiamo detto agli organizzatori che il ricavato lo avremmo destinato a questa donazione, perciò è venuta, diciamo così, bene e loro sono stati entusiasti, intanto è vero che sono qui presenti, perciò due delle sette culle sono state pagate dal Calcit, ma grazie al contributo del gruppo che organizza il Memoria Aldonardin. È un grande orgoglio per noi dell'Associazione Aldonardin riuscire a fare una donazione di questo tipo. È un'associazione che è nata da tre anni, che si occupa prevalentemente del Memorial Aldonardin, dove partecipano a un torneo a sfondo di calcio giovanile, sia dilettantistico che professionistico. Oltre le giornate del Memorial, nell'anno solare, grazie ai ragazzi dell'Associazione Aldonardin, abbiamo sempre organizzato delle serate a tema per far sì che potessero darci un aiuto, soprattutto inizialmente per l'Associazione e poi per le donazioni. Le cinque culle vanno ad aggiungersi alle due donate un paio di mesi fa dal Rotary Club Arezzo Est, portando così il loro numero a sette. Lancio un appello, vorremmo arrivare a dieci, perché il nostro punto nascita è il punto nascita più grande dell'Associazione Toscana Sud-Est, accogliamo più di 1.400 neonati, arriviamo quasi a 1.500 neonati all'anno, e quindi capite voi che ne servono altre.